Energie e risorse naturali sono i doni che abbiamo imparato a controllare per migliorare la qualità della vita. Tuttavia, l'uso di energie e risorse naturali avviene in modo insostenibile. Quindi è necessario attivare una transizione che si compone di tre azioni. Sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, utilizzare in modo circolare i materiali e ridurre gli sprechi. E in questo modo cerchiamo di disegnare un futuro migliore per tutta l'umanità. Grazie a tutti!